Anche la Voce d'Italia è voluta essere presente nella settimana della cucina italiana nel mondo. Nel corso di una semplice cerimonia nel nostro Istituto Italiano di Cultura, in occasione della consegna del diploma agli studenti dei corsi d'Italiano, la Voce ha premiato i vincitori del concorso Pubblica Turesette Italiana Preferida, un concorso disegnato per le reti sociali Facebook e Instagram. Ai vincitori il nostro amministratore delegato Antonio Romani, accompagnato dalla direttrice dell'Istituto Erika Berra, ha consegnato un buono per un pranzo per due persone offerto da ristorante Il Nuovo da Vittorio e una canasta di genere alimentare offerta da commerciali Pornac.